ecco l'occasione ma questo è sempre quel pesce magari sempre lo stesso è insimonito quello di ieri era anche più grosso questi sono i pesci che prendiamo un chile e mezzo di pesce immangiabile perché è pieno di spine allora viene preso e liberato bravissimo se vuoi tenerlo per i gatti no 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 non sono abituati a questa roba no no non le mangiano mica e poi lo liberano in acqua e via andare grazie grazie grazie